La richiesta di bilancio della difesa per il 2023 sottoposta dall'amministrazione Biden al congresso lo scorso marzo contemplava tra le altre cose una riduzione numerica dei membri delle forze armate dell'ordine dei 12.000 soldati a 988.500 unità. Si tratta di un ridimensionamento significativo che si configura tuttavia non come una salutare dieta dimagrante volta a calibrare l'ampiezza dell'esercito in funzione delle necessità di sicurezza nazionale del paese visto che da anni i funzionari del pentagono lamentano il sottodimensionamento delle forze armate. Le ragioni alla base della limitazione numerica dell'esercito predisposta dall'amministrazione Biden vertono infatti sugli insormontabili problemi di reclutamento che impediscono al dipartimento della difesa statunitense di argolare abbastanza cittadini per soddisfazione fare le quote previste. Il deficit è talmente consistente che nessuno dei rami di cui si compongono le forze armate riuscirà a conseguire i propri obiettivi in materia di reclutamento entro il 2023 nonostante già verso la metà dell'anno fiscale esercito e marina si fossero adoperati sia per rendere maggiormente attrattiva la prospettiva di intraprendere la carriera militare incrementando i bonus per le reclute a 50.000 dollari sia per formare adeguatamente i candidati attraverso specifici corsi preparatori. Il mancato raggiungimento del traguardo dei 65.000 ruolamenti previsto per il 2023 segna una perfetta soluzione di continuità rispetto al 2022 quando i reclutamenti erano risultati di 15.000 unità inferiori rispetto alle attese pari al 25% in meno e poi nelle condizioni per il conseguimento di un risultato analogo nel 2024 come paventato dal segretario dell'esercito statunitense Christine Wormuth nel corso di un'addizione al congresso. Il responsabile del reclutamento dell'aeronautica ha richiamato l'attenzione degli arruolatori sulle molteplici spie che lampeggiano con particolare riferimento ai problemi di carattere qualitativo. I dati raccolti all'interno del libro bianco intitolato Combating Military Obesity Stigma's Persistent Impact of Operational Readiness pubblicato dall'American Security Project lo scorso ottobre indicano che il 68% dei membri in servizio attivo delle forze armate sono obesi o in sovrappeso. Lo studio designa l'obesità come la principale ragione di squalifica dei candidati militari e una delle maggiori cause di infortuni in servizio e della concessione di congedi per motivi medici. I tassi di obesità tra i militari durante il servizio attivo sono più che raddoppiati nell'arco di un decennio, passando dal 10,4% nel 2012 al 21,6% nel 2022. Allo stesso tempo i disturbi alimentari sono aumentati del 79% circa tra il 2017 e il 2021. Il problema del sovrappeso affligge circa il 23% dei cittadini statunitensi compresi tra i 16 e i 21 anni, tende ad assumere caratteri letteralmente epidemici in riferimento a fascia di età più avanzata, esulta spesso associato a livelli culturali fortemente deficitari, a causa della declinante capacità di accesso a un'istruzione di qualità da parte dei ceti sociali meno abbienti. Le cui ristrettezze finanziarie li portano anche a seguire regimi alimentari basati sull'ingerimento massiccio del cosiddetto cibo spazzatura, meno costoso ma fortemente più nocivo per la salute. La concomitanza tra i due fenomeni, sovrappeso e scarsa cultura, si riscontra soprattutto negli stadi del sud, che rappresentano il tradizionale bacino di reclutamento per le nuove leve. Il numero degli arruolabili continua quindi a ridursi, per inidoneità fisica dovuta a sovrappeso e a causa del mancato superamento dell'esame di ammissione, consistente in un quiz di cultura generale, oltre che in forza di problemi di salute mentale, che affliggono il 26% dei giovani tra i 18 e i 25 anni, tossicodipendenza e precedenti penali. Il generale James McConville ha testimoniato dinanzi al congresso che solo il 23% dei cittadini statunitensi anagraficamente arruolabili, compresi quindi tra i 17 e i 24 anni, ottempera i requisiti minimi di reclutamento, a fronte del 29% registrato solo nel 2016. E soltanto una minima parte, quantificabile nel 9% circa, degli arruolabili risulta intenzionata a presentare la propria candidatura, per effetto della ormai conclamata disfunzionalità della carriera militare come strumento di riscatto sociale, certificata dalla netta e progressiva riduzione della corsia preferenziale a corsi di studio universitari dedicati agli ex militari. Nonché del crollo verticale della fiducia che la popolazione ripone nei confronti delle forze armate, diminuita secondo alcune rilevazioni dal 70 al 45% tra il 2018 e il 2021, con un'impenata vertiginosa registrata nei mesi successivi allo sconcertante ritiro statunitense dall'Afghanistan. Un apporto altrettanto rilevante al carro drammatico delle candidature è stato fornito dai mutamenti di carattere ideologico verificati si insegnano alle giovani generazioni, molto meno ricettive agli appelli al patriottismo e alla difesa degli interessi nazionali rispetto a quelle precedenti. Come ha affermato Thomas Foer dell'Heritage Foundation, il problema più grande del reclutamento è che sempre meno americani vedono il valore di unirsi alle forze armate. I giovani in genere si arruolano per motivi economici o patriottici, o per una combinazione dei due. Per quelli motivati dalla paga e dai benefici, aziende come Amazon stanno offrendo pacchetti che includono un salario di almeno 15 dollari l'ora, tasse universitarie completamente finanziate, assistenza sanitaria e 20 settimane di congedo parentale completamente retribuito. Di contro, un nuovissimo soldato dell'esercito, supponendo che lui stesso o lei lavori una settimana di 40 ore, il che è improbabile, visto che la maggior parte ne lavora più di 60, guadagna circa 11 dollari l'ora. Coloro che normalmente potrebbero essere motivati a servire comunque sono probabilmente dissuasi dai messaggi che oggi ricevono, o non ricevono, dalla società americana. Un recente sondaggio Gallup ha mostrato che tra il 2017 e il 2022, gli americani che credono che gli ufficiali militari possiedono un'etica elevata sono diminuiti di ben 10 punti, scendendo il 61%, il minimo da quando è iniziata la rilevazione. Il disastro ampiamente pubblicizzato che ha avuto luogo con il ritiro dall'Afghanistan ha ulteriormente contribuito alla perdita di fiducia del pubblico nei confronti dei militari e dei loro capi. Per coloro che guardano a televisione, i giovani possono facilmente trovare spot per la raccolta di fondi con veterani tragicamente feriti, ma poco in termini di virtù del servizio militare. L'educazione civica nelle scuole che enfatizza il servizio nazionale è inesistente. I dirigenti nazionali modelli di ruolo raramente, o mai, discutono il valore del servizio pubblico e militare. Nel tentativo disperato di tamponare l'emorragia dilagante, l'amministrazione Biden ha proposto il ripristino della leva obbligatoria, ma senza dare alcun seguito concreto all'iniziativa per non inimicarsi, in vista delle presidenziali del 2024, il favore di una fetta consistente di elettorato non esattamente allettato da una simile idea. D'altro canto, si è assistito, a dispetto delle rassicurazioni formali, a un abbassamento dei criteri di selezione funzionale a incrementare automaticamente il bacino dei papabili, anche a costo di condannare le forze ammate a un considerevole scadimento qualitativo. Si tratta insomma di una situazione alquanto critica, specie per un paese che dispone di circa 800 basi militari disseminate in giro per il mondo e necessita di una incommensurabile capacità di deterrenza e proiezione di potenza per tutelare i propri interessi di portata globale. Le solenne dichiarazioni formulate dal segretario del tesoro Janet Yellen e ripetute dal presidente Joe Biden circa la capacità degli Stati Uniti di sostenere due conflitti simultaneamente potrebbero non essere prese esattamente sul serio dal resto del mondo, a luce dei problemi come la sovraestensione militare e il declino del capitale umano da inquadrare nelle forze armate che attanagliano attualmente gli Stati Uniti d'America. Gentile utente, voglio richiamare la tua attenzione sul fatto che il contesto si regge unicamente sulle mie forze, oltre che sull'apporto volontario fornito dagli esperti che accettano di confrontarsi di volta in volta con me. Ti invito pertanto a valutare la possibilità di sostenere attraverso un contributo commisurato alle tue possibilità e al giudizio che affibbia il mio lavoro, questa attività che per quanto piccola sta crescendo rapidamente nonostante le mie ancora scarse, se non scarsissime, abilità tecniche che comunque conto di affinare grazie anche al tuo sostegno. Trovi in descrizione i link utili per accordare il tuo supporto e il contesto e, oppure se preferisci, acquistare i miei libri. Grazie e buona visione.